Frana Valgoglio, il deputato Daniele Belotti scrive al prefetto e al presidente della provincia di Bergamo per chiedere temporanee aperture vigilate della strada. BCC Bergamo, i soci approvano la con BCC Milano, la votazione durante l'assemblea straordinaria, il presidente Duilio Baggi afferma più forti insieme. Sotto il monte 6.500 fiori, ricordo delle vittime del covid, le parrocchie si organizzano per prendere parte all'iniziativa. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. In apertura andiamo a Gandino dove ieri sono scattate le ricerche per una persona cegiorna, Vladimir Lazzarini. Disavventura ieri mattina per una 55enne di Gandino, Marilena Facchini, conosciuta in paese perché gestisce un negozio di fiori nella zona della Basilica. Era uscita con il suo cane per una camminata dirigendosi verso il laghetto Corrado. Nel corso della giornata non ha risposto al telefono, non ha aperto il negozio e non si è presentata ad alcuni appuntamenti. Ai carabinieri di Gandino è stata presentata una denuncia di scomparse e sono così scattate le ricerche che hanno coinvolto anche i vigili del fuoco e protezione civile. La 55enne è stata localizzata solamente ieri sera verso le 19.30 in una zona boschiva sopra il laghetto Corrado, grazie al prolungato latrare del suo cane. Era caduta lungo il sentiero riportando una ferita alla testa. Era in stato confusionale. Dopo essere stata recuperata da vigili del fuoco e soccorso alpino è stata portata in ospedale per accertamenti. Con una lettera inviata al presidente della provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi e al prefetto Enrico Ricci, il deputato della Lega Daniele Belotti chiede di istituire in alcune fasce orarie, predisponendo quanto necessario per l'incolumità delle persone, temporanee aperture vigilate della strada con le quali favorire la mobilità dei residenti di Valgoglio che dalla frana del 26 aprile vivono non poche difficoltà per gli spostamenti quotidiani. Sentiamo quanto ci ha dichiarato Daniele Belotti. Sì, ho sentito il sindaco Angelo Bosatelli che aveva sollecitato sia la provincia che la prefettura per l'apertura controllato ovviamente, non stiamo parlando di aprire la strada Tukurt. Stiamo parlando di aprirla in limitate fasce orari, un'ora al mattino o presto, un'ora per il rientro al lavoro la sera e una mezz'oretta per gli studenti intorno a luna alle 13, in modo da poter cercare di alleviare i disagi pesanti che stanno vivendo da dieci giorni i quasi 400 residenti di Valgoglio e soprattutto le attività commerciali, l'agriturismo, la trattoria, il bar del paese che soprattutto nei fini settimana di primaveri lì hanno delle entrate che consentono di poter sopravvivere per tutto l'anno e perdendo quelle dopo due anni di difficoltà per la pandemia la situazione diventa difficile. Quindi la richiesta è apertura in orari limitati con degli interventi, delle prescrizioni come delle barriere con dei blocchi di cemento e la sorveglianza del passaggio con la protezione civile o i carabinieri o dei volontari della Croce Blu di Gromo durante il passaggio delle auto come sostenuto e avvalorato dal geologo incaricato dal comune di Valgoglio. Bisogna dare atto che province e regione sono intervenute immediatamente con dei contributi importanti, pari di 250 mila euro e i lavori stanno andando avanti. Quindi a fronte di questi lavori che però per mettere in sicurezza completamente la strada ci vorranno circa 45 giorni, il punto è proprio quello di cercare di alleviare i disagi dei residenti a fronte proprio di un intervento importante finanziario immediato di provincia e di regione. Via libera dai soci della BCC Bergamo alla fusione con BCC Milano. Gli oltre 7400 soci del pluricentenario istituto di credito cooperativo di Bergamo sono stati chiamati esprimersi attraverso il rappresentante designato in merito al progetto di aggregazione con la BCC Milano a seguito della delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, l'approvazione della Capogruppo, i CREA Banca e l'autorizzazione alla fusione per incorporazione da parte della BCE. Presidente, giornata storica per la BCC Bergamo. Sì, sì, veramente giornata storica. Oggi abbiamo ottenuto le assemblee, assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e straordinaria per l'approvazione del progetto della fusione. Devo dire che siamo veramente contenti, una grande partecipazione, più di mili soci hanno portato il loro voto e tra l'altro quasi a maggioranza assoluta l'approvazione per il progetto di aggregazione con la BCC di Milano. Un progetto che abbiamo portato avanti in questi mesi in maniera determinata, in maniera convinta e riteniamo che questa aggregazione con la BCC di Milano crei una grande banca, non solo una grande banca in termini di numeri, ma una grande banca per i servizi che potrà dare al territorio. Perché io credo che essere una grande banca non voglia dire perdere quelle caratteristiche del credito cooperativo, anzi, rafforzarli e poter essere più vicini alle nostre comunità e alla fine sono comunque poi le persone che interpretando lo spirito del credito cooperativo faranno la differenza, dovranno avere sicuramente dei valori, una professionalità e una sensibilità di attenzione alle necessità dei territori. Sì, il 2021 ci vede sicuramente soddisfatti per il lavoro che abbiamo svolto e per il rapporto quotidiano con i nostri soci e clienti che anche quest'anno ci hanno premiato. La banca è cresciuta su tutti gli aggregati principali, la raccolta diretta è cresciuta di circa il 7%, di oltre l'8% l'indiretta e anche gli impieghi netti sono cresciuti di oltre il 2%. Nel complesso questo ci ha portato il montante banca a oltre un miliardo e mezzo, con dei positivi riflessi anche sul conto economico, siamo riusciti a difendere il margine di interesse in un contesto di mercati negativi, è stato molto importante l'incremento delle commissioni nette, siamo cresciuti di quasi il 10% e questo dalla misura di quanto siano apprezzati dai nostri soci e clienti i servizi a valori aggiunto, quali monetica, risparmio gestito e banca assicurazione e il margine di intermediazione nel complesso siamo riusciti a farlo incrementare di circa il 6%. Nonostante questo sforzo si è anche riusciti a intervenire sulla struttura di costo riducendo l'incidenza dei costi operativi. Per quanto riguarda il risultato di esercizio, il 2021 vede un risultato di esercizio negativo ma ci sono motivazioni che sono legate alle scelte prudenziali del Consiglio di amministrazione in tema di rischio di credito che in realtà sono perseguite da diversi anni e che hanno consentito alla banca di ridurre in modo importante l'incidenza del credito deteriorato. Si consideri che il credito deteriorato netto complessivo che è il vero rischio latente del credito deteriorato nei bilanci bancari l'abbiamo contenuto oggi al 2,6%. Questo è un dato veramente importante e questo anche per le coperture importanti. Siamo a oltre un 73% sulle sofferenze, al 43% circa sull'inadentenza probabile, abbiamo una copertura media del 66%, quindi sono indicatori sicuramente importanti nel contesto del credito deteriorato. Il risultato di esercizio è stato influenzato anche dalle svalutazioni di questo esercizio che sono state importanti proprio per completare questo percorso e arrivare nel modo migliore anche all'appuntamento con la consorella perché alla fine stiamo portando una macchina operativa che funziona, abbiamo una rete che i risultati li ha fatti e grazie all'apprezzamento dei clienti è quello che ho detto all'inizio. E' una qualità del credito che in un contesto così difficile ci porta con serenità ad affrontare un momento sicuramente non facile ma direi che siamo pronti per farlo. Il trasferimento dell'ufficio turistico e la riqualificazione della pavimentazione del palazzetto dello sport sono tra le principali novità in materia di opere pubbliche per quanto riguarda il comune di Val Bondione. A Val Bondione ci sono novità che riguardano l'ufficio turistico. Esatto, l'ufficio turistico è stato trasferito nello stabile che ospita la biblioteca e il museo degli attrezzi antichi a seguito della recente ristrutturazione sia del giardino che dello stabile abbiamo deciso di centralizzare il servizio e quindi di portare anche qui l'ufficio turistico di modo che garantiamo dei orari di apertura più ampi sia per la biblioteca che per l'ufficio turistico. Abbiamo anche sistemato delle stanze al piano di sotto rispetto alla biblioteca per creare dei spazi per dei laboratori e per lo studio. Mentre al piano di sopra che ospita il museo degli attrezzi antichi garantiremo una maggiore apertura durante l'estate. Si avvicina l'estate e iniziano anche gli appuntamenti sul territorio. Esatto, il primo appuntamento è il 12 giugno con la Mangialonga che è una camminata enogastronomica organizzata da Turismo Valbondione in collaborazione con Turismo Gandellino ed è appunto una camminata che parte da Lizzola passa dal lago Spigorel alla frazione dei Tezzi e si conclude a Gandellino. Le iscrizioni sono aperte, potete scaricare il modulo su turismovalbondione.it quest'anno abbiamo deciso di anticiparla a giugno rispetto che a settembre perché così diamo la possibilità appunto di ripercorrere questa passeggiata che è stata molto apprezzata. Ci siamo spostati adesso all'interno del palazzetto dello sport perché ci sono novità anche qui. Esatto, anche qui novità. Dopo una serie di lavori che sono stati fatti per la messa a norma della struttura l'ultimo step era quello di sistemare il pavimento che non era più a norma e quindi abbiamo deciso di mettere questo parquet che si presta per le attività sportive ed è molto performante. Questo intervento è costato circa 50.000 euro e grazie appunto a quest'ultimo intervento adesso avremo la possibilità di affidare la gestione della struttura. 6.500 fiori a Papa Giovanni a ricordo dei bergamaschi vittime da Covid-19 è l'iniziativa che si appresta a vivere nel mese di maggio il santuario di Sottomonte per 13 sere è in programma una santa messa al termine della quale si reciterà una supplica a San Giovanni XXIII e si metteranno ogni sera 500 fiori a ricordo dei defunti per prendere parte a questa iniziativa si stanno organizzando anche le parrocchie del nostro territorio. Ne abbiamo parlato con Monsignor Giuliano Borline a Ciprete di Clusone e Vicario Territoriale Locale per quanto riguarda il territorio dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve. La situazione del Covid che ci auguriamo sia ormai un'esperienza che appartiene al passato ha segnato profondamente la vita delle nostre comunità. Ogni comunità parrocchiale, ogni comunità civile ha ricordato in vari modi le persone che ci hanno lasciato durante quel periodo terribile. Normalmente è stato fatto attraverso delle celebrazioni o comunque anche attraverso dei ricordi, attraverso monumenti, eccetera. Ora, a livello più ampio, a livello della CET, una iniziativa che parte, diciamo, dalla parrocchia di Sotto il Monte è sostenuta anche dalla Diocesi ed è un pellegrinaggio a Sotto il Monte appunto per ricordare le vittime del Covid all'interno della nostra comunità ecclesiale territoriale. Questa è una proposta che sicuramente ha un valore molto grande nel senso che ci sarà la celebrazione dell'Eucaristia ma anche verrà messo un fiore per ognuna delle vittime del Covid accanto alla statua di Papa Giovanni nel Giardino della Pace sotto il Monte. La nostra comunità ecclesiale territoriale ha voluto organizzare anche una possibilità di viaggio così che si può svolgere insieme attraverso Pullman e ogni parrocchia appunto si ha avvisato, diciamo, la propria comunità che c'è questa possibilità. Per la nostra comunità ecclesiale territoriale la celebrazione sarà la sera del 24 maggio quando appunto tutte le parrocchie si ritroveranno a Sotto il Monte per questo momento di commemorazione e di preghiera per tutte le vittime della nostra comunità ecclesiale territoriale le vittime del Covid. Si è pregati di rivolgersi alla propria parrocchia entro breve, entro pochi giorni in modo da poter organizzare anche così il viaggio. Ognuno poi può raggiungere Sotto il Monte come ritiene più opportuno. L'invito è rivolto anche alle istituzioni pubbliche e alle istituzioni amministrative per vivere proprio comunitariamente da parte del territorio questo momento. Si aggiunge alle celebrazioni, già vi dicevo che ogni comunità ha fatto, però è sicuramente un modo anche bello di ritrovarsi insieme per condividere ancora il ricordo di tante persone che ci hanno lasciato in questo periodo momento anche di vivere proprio la dimensione comunitaria e il sostegno anche alle persone che sono state colpite dalla morte dei loro cari. Quindi l'invito davvero caloroso è proprio quello di partecipare a questo, chiamiamolo, pellegrinaggio denominato 6.500 fiori a Papa Giovanni a ricordo dei bergamaschi vittime del Covid un'occasione veramente da sottolineare e alla quale ci auguriamo partecipino tante persone. Ora ci occupiamo della sezione valesseriana dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia abbiamo fatto il punto sulle prossime iniziative con il Presidente Alberto Benzoni. I paracadutisti della Valle Seriana stanno attendendo la riapertura della zona Lancio per ripartire con l'organizzazione dei corsi di paracadutismo militare, sotto controllo militare interrotti purtroppo da una diatriba con l'ENA che dobbiamo chiarire alcune cosette però a breve ripartiranno. in attesa che riaprano le zone Lancio ci stiamo attivando per organizzare altre cose il 15 di maggio avremo in programma la presentazione di un libro molto probabilmente in Comune di Lovere stiamo aspettando la risposta dall'amministrazione comunale libro che sarà il terzo scritto dal Danilo Pagliaro legionario della legione straniera appunto in riserva ed è il primo di una trilogia di estremo interesse questo il 15 di maggio a seguire diciamo sempre nell'immediato il 22 di maggio abbiamo in programma l'organizzazione di una gara di tiro a segno di tiro dinamico presso il poligono Cieli Aperti che vedrà come direttore di esercitazione il nostro paracadutista Giuseppe Liotta sergente maggiore capo dell'esercito in forza all'85esimo reggimento che appunto organizzerà questa gara organizzata su tre linee di tiro diverse con tre armi diverse è una gara aperta a tutti gli iscritti ad associazioni d'arma per cui all'associazione nazionale Alpini all'associazione Bersaglieri e così dicendo confidiamo in una partecipazione numerosa anche questa gara a seguire poi avremo ulteriori eventi che saranno come al solito le nostre cerimonie per quel che riguarda la prima di luglio la partecipazione a Cima Vallona alla commemorazione a ricordo del nostro sergente maggiore Olivo Dordi di Gandellino poi dopo seguire ancora altre novità che però non voglio presentare adesso per non caricare troppo i nostri ascoltatori In Eval Seriana arriva la prima edizione di Montagna di Gusto la rassegna enogastronomica che fino al 17 giugno mette in scena i prodotti e i piatti tipici di questo territorio per promuovere attraverso il gusto e l'enogastronomia il turismo di qualità ideata e organizzata dal distretto del commercio Alta Valle Seriana Clusone in collaborazione con Promoserio l'iniziativa rientra nel progetto più ampio di riscoperta della tradizione culinaria della Valle Seriana quale tassello fondamentale di un turismo di qualità è al via una rassegna molto importante Sì, stiamo per iniziare con una rassegna enogastronomica un qualcosa che mancava nel nostro territorio da qualche anno rassegna importante perché va a toccare uno dei nostri punti di forza un po' la gastronomia e la cucina questa idea nasce al di là del fatto che sia stata fatta in passato con buoni risultati dal percorso che è stato fatto lo scorso anno sulla ricerca di un piano di sviluppo del turismo per Clusone dove era immersa la necessità di un sviluppo del piano enogastronomico Il distretto del commercio quindi si è preso l'impegno di portare avanti questa filiera di sviluppo questa idea, questa occasione per tutto il nostro territorio e questo è il primo dei vari passaggi che abbiamo in mente per sviluppare la nostra cucina e i prodotti del nostro territorio Questa rassegna ci porterà a toccare sette ristoranti del nostro distretto sette ristoranti diversi per storia e per tradizione ma che hanno tutti presentato un menù particolare e molto interessante la nostra richiesta era stata quella di un menù che potesse andare incontro alla tradizione ma allo stesso tempo con un tocco di rinnovamento e quindi abbiamo avuto davvero delle proposte molto interessanti i ristoranti che parteciperanno saranno l'antica locanda Blumin, l'hotelambra, il Moro l'hotel Betulla, la Baitella e l'hotel Garden potremo andare da loro a mangiare nei prossimi venerdì a partire dal 6 maggio quindi già da domani e la prima data sarà appunto l'antica locanda e poi ogni settimana andremo a toccare diversi ristoranti l'idea che c'è dietro a questo percorso è proprio quello di andare a riscoprire i prodotti del nostro territorio c'è quindi una proposta di un menù fatto da antipasto primo, secondo, dolce accompagnamento di vino tutto compreso a 35 euro le iscrizioni si fanno direttamente presso i ristoratori quindi abbiamo un contatto diretto col territorio quindi si possono chiedere a loro direttamente informazioni oppure comunque essendo organizzato dal distretto per qualsiasi informazione anche i nostri canali sono ben accessibili la proposta che andiamo a farve non è soltanto quello di una semplice cena per quanto buona e piacevole ma sarà anche l'occasione di conoscere meglio i prodotti che vengono proposti grazie agli chef che presenteranno i loro piatti è anche un'occasione per parlare con le diverse amministrazioni che saranno presenti a questi eventi e parleranno un po' di quello che si sta facendo sul nostro territorio ed eccoci alla programmazione televisiva sul canale 84 di Antenna 2 questa sera alle ore 20 trasmetteremo il programma di motori paddock alle 21.55 mondo al Binoleffe alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.10 la rubrica sul mondo del lavoro di oggi e di domani work in progress alle 23.25 la rubrica di sport hard track e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario dal Manacco per venerdì 6 maggio il sole sorge alle 5.55 tramonta alle 20.39 il culmine è alle ore 13.17 la durata del giorno è di 14 ore e 44 minuti la luna sorge alle 9.30 tramonta alle 2.9 minuti di sabato la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 33% la chiesa ricorda Pierina Morosini e con questo è tutto vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica classica ma non troppo e le previsioni del tempo vi ringraziamo per vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti